Un buongiorno e un bene ritrovati cari telespettatori e telespedatrici con l'edizione meridiana del nostro telegiornale. I finanzieri della compagnia di Monfalcone hanno denunciato un tassista che opera a Monfalcone per truffa gravata ai danni dello Stato. Formalmente in stato di temporanea neabilità assoluta al lavoro per malattia continuava a svolgere regolarmente l'attività professionale percependo indebitamente i danni dell'INA in un'indenità di 5.600 euro. Grazie all'esame dei dati del traffico telefonico del cellulare i militari hanno individuato decine di suoi clienti sentiti come testimoni. Hanno confermato di aver usufruito delle corse e di avergli corrisposto il prezzo dovuto. Altri elementi sono stati forniti dalla polizia locale che ha monitorato i passaggi effettuati dal taxi in zona traffico limitato. Oltre a restituire le somme indebitamente percepite il tassista dovrà rispondere del reato di truffa gravata ai danni dello Stato. L'autorità giudiziaria ha disposto la conclusione delle indagini preliminari e chiesto il rinvio a giudizio. Tragedia sfiorata questa mattina sul ponte della Delizia è successo quando un camion in transito lungo il collegamento che attraversa il tagliamento ha perso uno pneumatico, quello centrale, che è finito contro un altro mezzo pesante in transito. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito ma se la grande e pesante gomma avesse colpito una vettura gli esiti sarebbero stati ben più drammatici. Le cause sono in corso di accertamento da parte della polizia locale di Codroipo, intervenuta sul posto poi anche per chiudere il tratto della Statale 13. Le operazioni di stop alla circolazione sulla Statale 13 sono durate circa un'ora e ci sono rese necessarie per rimuovere il mezzo pesante. La strada è stata poi riaperta al traffico veicolare alle 9.45. Cani lasciati sotto il sole in terrazze circondati dai loro bisogni. È successo a Monfalcone il 27 giugno scorso a segnalare l'episodio di maltrattamento a un passante che ha notato due pitbull lasciati a 40 gradi sommersi dai loro escrementi. Non era la prima volta che il comando interveniva in quell'abitazione per sanzionare i proprietari dei cani per la detenzione non corretta degli animali. Dopo l'intervento della pattuglia è stato fatto intervenire il veterinario dell'azienda sanitaria che ha constatato lo spazio angusto dove i cani erano rilegati, la temperatura altissima e la presenza delle deiezioni che creavano miasmi percettibili a metri di distanza. Il comando ha rintracciato il proprietario e ha provveduto ad affidare i cani al canile municipale di Gorizia. Il proprietario dei cani è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica per aver detenuto gli animali in condizioni incompatibili per la loro natura. La flat tax non fa tornare i conti ai commercialisti, il nuovo sistema di contabilità che permette a chi non sviluppa fatturati superiore ai 65 mila euro di versare il 15% di imposte ha reso più autonomi i contribuenti e così gli studi di contabilità devono fare i conti con una diminuzione dei volumi e un ordine che registra sempre meno iscrizioni da parte delle nuove generazioni. L'avvento della flat tax da una parte ha semplificato la vita e soprattutto pesa di meno sulle tasche dei contribuenti dall'altro ha fatto diminuire i volumi ai commercialisti. Conferma questa tendenza il presidente dell'ordine di categoria Alberto Camillotti che spiega come l'introduzione del regime fiscale agevolato abbia fatto diminuire drasticamente il volume di carte cioè di fatture di vendita o di acquisto anche perché chi aderisce a questo sistema non è obbligato alla tenuta dei registri fiscali. Quindi meno registrazioni e meno costi per le imprese che solo in provincia di Udina hanno a disposizione 800 commercialisti 2.000 in tutta la regione. Per le partite IVA c'è la possibilità di sviluppare volumi sino a 65 mila euro versando il 15% di imposte sul 78% dei ricavi. In questo modo si dribbla al vecchio sistema l'imposizione fiscale che era divisa per scaglioni dal 23% al 43% con l'obbligo di versamento dell'IVA di tutta una serie di cavilli che volevano dire costi per i contribuenti e fatturato per gli studi di contabilità. Molte imprese, spiega Camillotti, che prima potevano sviluppare un fatturato fino a 30 mila euro ora sono migrate nell'orbita flat tax con una riduzione dei volumi di lavoro per la nostra categoria ma che comunque può contare su altre competenze ma soprattutto concentrando l'attenzione su grosse imprese che continuano a mantenere il vecchio sistema di contabilità. Confermo che la PIL della nostra professione incontra sempre di meno il favore delle nuove generazioni. Se qualche anno fa le iscrizioni e il nostro ordine avevano numeri importanti ultimamente si è ridotta a 8-10 accessi all'anno. Il sindaco di Udine Pietro Fontanini ha consegnato il sigillo della città al chirurgo plastico Giuseppe Lossasso e presidente dell'associazione Smile Again. Sigillo della città di Udine a Giuseppe Lossasso, presidente dell'associazione Smile Again in Friuli Venezia Giulia. Ha iniziato a collaborare con l'associazione nel 2000 operando due ragazze pakistane ostionate dall'acido all'ospedale di Udine. Tre anni dopo si è recato per la prima volta in Pakistan con una missione umanitaria di Smile Again per operare le ragazze nel luogo di residenza. Nel 2004 ha fondato a Udine l'associazione di cui è attualmente presidente. Per le donne lì in Pakistan abbiamo fatto cose fantastiche e cose fantastiche le faremo anche per le donne qui. Adesso prima dicevo che Smile Again si impegnerà anche in Italia quindi con la sua esperienza a fare qualcosa per la violenza che anche qui purtroppo comincia un po' troppo a evidenziarsi e mi sembra che stanno un po' copiando i nostri amici pakistani perché l'acidificazione non è più una parola strana e è abbastanza frequente purtroppo anche qui. Per cui Smile Again si impegnerà anche in Italia perché ci è stato detto ma come andare là a fare e non lo fate qua. E noi vogliamo farlo anche qui. Noi siamo pronti a collaborare e collaboreremo con tutte le associazioni umanitarie locali, internazionali e internazionali che si occuperanno della violenza sulle donne. Un maxi cantiere sarà aperto a Tricesimo tra settembre e ottobre prossimi per il completamento del rifacimento della Casa di Riposo Nobili d'Epilosio. Un intervento da 4 milioni e mezzo di euro. Trasferimento in vista per gli oltre 80 ospiti della Casa di Riposo di Tricesimo Nobili d'Epilosio. A settembre infatti parte il cantiere di ristrutturazione dell'intero edificio. Costo dell'operazione 4,5 milioni di euro. Ottobre dovrebbero partire i lavori di ristrutturazione dove saranno dei lavori fortemente impattanti sulla Casa di Riposo che la renderanno più attuale e più moderna ma secondo tutti gli standard anche da un punto di vista sia antisismico sia anche per quanto riguarda l'aspetto del risparmio energetico. In più quello che è molto importante darà il via anche a tutto quello che sarà la riclassificazione in quanto tutti i posti della Casa di Riposo saranno per non autosufficienti. Oggi come oggi gli ospiti oscillano dagli 80 a 90 ma possiamo dire che la media sia di 85 persone. Un domani nel momento in cui saranno terminati i lavori saranno ufficialmente 82 posti per non autosufficienti. La cifra è una cifra molto impegnativa e ci aggiriamo alla fine della fiera a circa 4 milioni e mezzo di euro. E' stato consegnato a Spillenberg l'International Award of Photography 2019 all'argentino Martin Weber. A Palazzo Tadea è stata anche aperta la mostra a lui dedicata. 50 immagini in bianco e nero riprese fra il 1992 e il 2013 in America Latina, dall'Argentina a Cuba, dal Messico al Peru, dal Nicaragua al Guatemala e poi Brasile e Colombia raccolte in una mostra che sarà ospitata sino al 18 agosto nelle sale del cinquecentesco Palazzo Tadea di Spillenbergo nell'ambito della rassegna Friuli Venezia Giulia Fotografia intitolata quest'anno Sguardi differenti a cura del CRAF, centro di ricerca ed archiviazione fotografica in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia e sostegno della Fondazione Friuli. Mapa de Suenos Latino Americanos. È così che l'autore, il fotografo argentino Martin Weber, ha voluto titolare una vernice che immortala desideri e speranze di centinaia di persone, sole o in gruppo, uomini, donne, vecchi e giovani con l'apito della festa o i vestiti a brandelli, su campi desolate di sterpi, in riva al mare o nelle favelas, con l'invito a scrivere su piccola lavagna nera i desideri o sogni irrealizzati. Dal tutto emerge uno sguardo complesso sulla società, ma soprattutto rivela un'esperienza visiva ed emotiva avvincente che abbraccia il genere umano. Tutte motivazioni che hanno indotto la giuria del CRAF filimberghese a conferire al fotografo argentino l'International Award of Photography 2019, premio che dal 1987 viene conferito agli autori più significativi del panorama internazionale. Alla consegna a Palazzo Tadea del Riconoscimento, abbinata all'inaugurazione della vernice, Martin Weber è stato onorato dalla presenza di molti appassionati e con autorità intervenute, fra le quali Enrico Sarcinelli, sindaco di Spilimbergo, nonché presidente del CRAF, Luca Giuliani, responsabile della direzione, e Guido Cecere del Comitato Scientifico della medesima istituzione, Marco Dreosso, europarlamentare, e l'assessore regionale alla cultura e sport, Tiziana Gibelli, presentate dalla giornalista di Fotocalp, Loredana De Pace. La pedemontana del Friuli si conferma la regina dei treni storici, tutto esaurito infatti per il convoglio dedicato al festival a tutta bici. Tutta la famiglia al completo? Tutti quanti al completo ci muoviamo con la bici cargo. Siamo venuti anche l'anno scorso a fare il giro col treno storico, sempre con la cargo, siamo rimasti sorpresi di poterla caricare nel treno e allora abbiamo replicato. Noi sempre in bici, quando è possibile, anche al lavoro. Quindi è un'esperienza che avete già vissuto? Sì, super, anche per il relax e in orario extra lavorativo. I treni sono vecchi di quando ero giovane io, diciamo, e quindi è un'esperienza interessante perché qua ci si ritrova in tantissimi, con interessi anche diversi. Una bellissima iniziativa che ripetiamo per il secondo anno di fila, in occasione della prima edizione, questa volta di Atuta Bici a Gemona. FIAB ha gestito la prenotazione dei posti bici, ringraziamo la fondazione, ci ha permesso di caricare le biciclette su questo treno storico. È un debito d'onore che ho verso questa città, verso le persone che vanno in bicicletta, quindi bisogna essere riconoscenti a chi pratica questo sport e chi contribuisce anche a divulgarlo, quindi l'ho fatto con molto piacere. Il Friuli è una regione che va valorizzata e il turismo in bicicletta è il miglior modo per valorizzarla, penso, perché abbiamo dei territori veramente bellissimi. Grande successo per la città di Tarvisio Tennis Cup, vinta per la prima volta da una tennista italiana. Dopo tre vittorie slovene e un'affermazione svizzera, Bianca Turati regala il primo successo italiano al città di Tarvisio Tennis Cup, competizione inserita nel circuito professionistico ETF dotata di monte premi di 25.000 dollari, giunta la quinta edizione. La Brianzola, protagonista di una settimana ad alto livello, ha sconfitto in finale la brasiliana Paola Cristina Gonsalves, prendendosi la rivincita dopo la semifinale di sabato 22 giugno a Padova, quando la sudamericana si era imposta in 3-7. Finale bella, con ottimi colpi e tanti scambi durissimi, che hanno certificato la crescita della Kermess in Valcanale. Sono molto emozionata, contenta del mio primo 25.000 che ho vinto, quindi sono da poco tornata dagli Stati Uniti e i primi due tornei che ho fatto sono stati semifinale vittoria, quindi sono molto contenta. Grande soddisfazione anche da parte degli organizzatori e il presidente della FIT, Federico Venezia Giulia e Antonio De Beneditti, si anticipano a volontà per gli anni a venire. Mi impegnerò per fare svolgere il prossimo anno il torneo di Tarvisio a luglio, un mese migliore anche sotto il profilo turistico. Un'edizione sicuramente importante, un grande impegno da parte del circolo che ho l'onore di presiedere, grande lavoro da parte di tutti i volontari, il consiglio direttivo, un grazie di cuore a loro. Molto bene, termina qui il telegiornale delle 12.30. Io vi ringrazio come sempre per la vostra cortese e fedele attenzione, il nostro Tommaso Ravo manda la sigla di chiusura, poi la pubblicità e come di consueto a voi la linea. Alla prossima! Musica 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 Musica